oi ciao sai qual è la cosa bella e preziosa direi quasi di trovarsi in una fiera di opere di opere fotografiche e avere il parere il contatto con le persone che vedono questa cosa sai beh il bello è questo che siccome la fotografia d'arte non è un settore della fotografia non è come la fotografia di moda la fotografia di paesaggio la fotografia still life è un mondo a sé stante bene allora per questo motivo partecipare alla vita delle persone alle relazioni fra le persone all'entourage delle persone che amano la fotografia d'arte questa è l'essenza e la vita delle opere non l'opera in sé per sé nuda lasciata se stessa e allora interfacciandoci con le persone abbiamo chiesto ciascuno ma secondo te chi è cosa fa l'artista artista secondo me è una persona che coglie l'opportunità di esprimere parlando un linguaggio universale interpretabile dalle persone che lo sentono secondo il proprio sentire dice verità diverse alle persone diverse chi è l'artista secondo me io all'artista dovrebbe essere colui che è libero da qualsiasi condizionamento è la persona che utilizza le sue opere come mezzo come scusa per interfacciarsi con i suoi simili e grazie a queste parlare comunicare sentire con gli altri per me l'artista è quello che cerca l'isola che non c'è è come diceva Ennio Flaiano è uno che ha i piedi saldamente piantati sulle nuvole l'artista è la persona che sente la necessità di creare e non lo fa soltanto per gli altri lo fa perché non potrebbe fare nessun'altra cosa al mondo se non quello e che continuerebbe a farla anche se tutto il resto smettere di esistere un artista è qualcuno che ha delle storie e anche una voce per raccontarle l'artista è colui che crea sviluppando un linguaggio tra idee e pensieri non è artista le persone che creano cosiddette arte pensando in vendere o cosa penseranno le persone quello per me non è arte un artista è quella persona che in qualsiasi forma di espressione si sente libero in quello che fa e pensa che quello che fa sia arte per me l'artista è l'attivatore delle mie emozioni l'artista è per me chi mi permette di poter giocare con l'arte l'artista è una persona che non ha paura di esprimersi usando qualsiasi mezzo che ha a disposizione e se non li ha li inventa un artista è un creatore è un che un sognatore l'artista è colui che crea e che non si riposa neanche settimo giorno è un essere umano che respira con la mente con il cuore per me l'artista è colui che in sintonia con se stesso e con il proprio sguardo chi è un artista è la persona che ha un buon gallerista dietro no di quale artista vogliamo parlare dell'introverso o dell'estroverso insomma le cose cambiano cambiano tantissimo cambiano molto rapidamente per tantissimi anni la fotografia ha avuto dall'arte parecchio beh è cambiato il vento adesso è ora che la fotografia dia all'arte tanto e l'arte avrà molto della fotografia